Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Manu Spoli 07 Siamo qui per recensire velocemente la partita ieri svoltesi con la Salernitana che ha visto finalmente la Juve vincente I numeri, a parte le prime quattro partite, sinceramente non sono neanche troppo male Cioè, per farvi capire, negli ultimi quattro partite, nonostante abbiamo 3000 difficoltà a segnare nella fase difensiva, abbiamo 3000 difficoltà quest'anno Comunque, abbiamo fatto tre vittorie su quattro tra Lazio, Fiorentina, Atalanta e Salernitana trasferta che vuol dire non proprio partite facili quindi fare 9 punti su 12 disponibili comunque è una buona media Poi, certo, i punti persi con Verone e Sassuolo sono punti persi importanti ma contemporaneamente nelle quattro partite precedenti erano state ottenute quattro vittorie su quattro con Spezza, Sampdoria, Torino e Roma che non sono proprio le ultime arrivate Spezza e le partite con Torino e Roma erano partite sulla carta molto complicate Detto questo, ragazzi, detto questo c'è da, come posso dire, segnalare alcune cose la partita è stata accettabile, quella di ieri la partita è stata sicuramente accettabile perché una partita vinta con uno scarto di due gol senza subire gol soprattutto il che sono tre volte nelle ultime quattro partite in campionato che non subiamo gol il che comunque è un buon dato secondo il mio punto di vista sono tre volte nelle ultime quattro partite che non subiamo gol ed è, secondo me, un buon dato un gol subito negli ultimi quattro non è comunque male con l'Atalanta non era stata fatta una partita brutta anzi, dico la verità se andiamo a vedere sotto il punto di vista del possesso parola la Juve ha fatto più di quanto ci si poteva aspettare più tiri, più possesso addirittura qualcuno ha detto che abbiamo subito una vittoria di Corto Musio il che è vero, ci sta, purtroppo l'abbiamo vinta di Corto Musio con la Fiorentina l'abbiamo persa di Corto Musio con l'Atalanta peccato, peccato per quanto riguarda la partita di ieri ho visto un buon atteggiamento però noto anche un certo dislivello tra alcuni giocatori cioè è come quando ho visto il video di Michael Righini e questa gliela rubo è come quando uno che gioca ultimato su FIFA gioca in squadra con uno che gioca dilettante puoi anche mettere livello campione che è quello che gioca ultimato e livello campione fa 5-6 gol ma quello che gioca dilettante ha due livelli più quindi di conseguenza si crea un certo equilibrio in questo senso e quindi giocatori con tutto il rispetto per i nomi che sto facendo ma giocatori come Bernardeschi Rabiot, Alexandro, Bentancur creano troppo dislivello secondo me in un rivista con gente come Di Bala per farvi un esempio o Locatelli ma io non capisco sinceramente il perché non giochi Arthur anche ieri con la Salernitana Arthur boh panchinato e questa è una cosa veramente inaccettabile secondo me un rivista da un giocatore che ha fatto due anni il titolare a Barcellona faceva girare veramente moltissimo la squadra da un giocatore pagato 72 milioni il che non mi spiego questa panchina veramente inaccettabile preferirgli Bentancur con tutto il rispetto ma soprattutto ieri Arturo doveva giocare e fare il suo l'atteggiamento secondo me è stato un po' sbagliato dalla parte della Salernitana che dopo aver subito il primo gol non si è un po' scomposta per andare a cercare il secondo e ha praticamente lasciato fare a lui quello che voleva che poteva vincere secondo me anche con più gol di scarto tra l'altro è la seconda vittoria in campionato con due gol di scarto la prima senza rigori di mezzo diciamo così perché se andiamo a vedere magari con lo Zenit abbiamo vinto sì con due gol di scarto ma con un rigore con il Malmo con tre gol di scarto con un solo rigore però diciamo che lì era un po' più equilibrata la situazione però è la prima volta che in campionato vinciamo con questa modalità Bentancur veramente ragazzi non lo capisco e tra l'altro alla questione Morata io ripeto Morata viene troppo criticato nel senso che uno come Morata non può secondo me un trivista avere l'aspettativa di fare 30 gol alla stagione Morata finora è il giocatore della Juventus che ha segnato più gol su azione perché ha segnato 5 gol tutti e 5 su azione Di Bala ne ha segnati 7 con meno presenze di Morata è vero ma comunque con tre rigori per farvi capire Di Bala è il mio idolo lo appoggio in tutto è inutile parlare di rigore sbagliato ci sta quel al 95esimo fosse stato un rigore decisivo sicuramente non lo mandavi facilmente giù mi è piaciuto anche Kuluseski questa compresenza con Kuluseski e Di Bala mi è piaciuta si intendono bene i due e secondo me può passare definitivamente Allegri al 4-3-3 barra 4-2-3-1 perché ieri più che 4-2-3-1 con Bernardeschi e Kuluseski che poi diventava chiaramente 4-4-1-1 in fase di non possesso più di 4-2-3-1 mi sembrava anche una specie di 4-3-3 con Di Bala Ken che si alternavano ma anche con lo stesso Kuluseski con quegli E3 che si alternavano un po' in attacco perché sono giocatori duttili Di Bala Ken e Kuluseski in attacco perché Kuluseski può giocare ambe due le fasce e può addirittura anche adattarsi a centrale Di Bala può giocare a destra e centrale Ken può giocare a sinistra e centrale quindi insomma un bel trio visto ieri Ken che è l'unico attaccante di ruolo che abbiamo secondo il punto di vista perché Morata è più una spalla quasi quindi sono curioso sinceramente anche di vedere insieme Morata e Ken anche se questo forse esclude Di Bala sono curioso dicevo di vedere Morata e Ken insieme ma con Ken che è l'unico attaccante di ruolo purtroppo ieri non ha fatto una buona partita perché gli è mancato il gol gli è mancata la scelta di passaggio quando c'era Bernardeschi libero non è sicuro che Bernardeschi avrebbe segnato ma non lo so ha sbagliato qualcosa però deve crescere ha delle potenzialità veramente ottime Ken non giustifico Allegri per il fatto di far entrare su Le perché ha giocato per un solo secondo di gioco praticamente su Le quindi il tempo che Di Bala c'era pure il rigore lo devi far entrare 2-3 minuti prima secondo il mio punto di vista perché almeno gli davo qualche importanza a sto ragazzo e secondo me è giustificabile spero che venga riconvocato per la partita con il Geno e vedremo se lì farà un'apparizione per qualche minuto in più mi ricorda un po' Conte quello che ha fatto con Eriksen anche se con Eriksen era diverso perché Eriksen è un giocatore valeva tanto sul mercato quindi secondo me lì veniva per quanto riguarda la classifica abbiamo 4 partite tra virgolette facili con Genoa Venezia Cagliari e Bologna se non mi sbaglio 4 partite sulla carta da vincere perché abbiamo già perso troppi punti con Verona Sassuolo Empoli abbiamo perso punti veramente a ogni parte anche con l'Udinese e quindi secondo me almeno in queste 4 partite non chiedo tanto ma almeno 10 punti su 12 voglio che la Juve me li porta a casa quanto meno per provare a battagliare per un piazzamento in Champions League perché andare a fare 10 punti su 12 contro queste 4 squadre comunque secondo me è un buon bottino vedendo un po' quello che bisogna fare col Malmo quindi speriamo di ottenere questo bottino e di aprire magari una serie positiva detto questo ragazzi il video termina qui spero che il video vi sia piaciuto se il video ti è piaciuto devi dare a lasciare un mi piace se non trate un dislike commentate se siete d'accordo se siete d'accordo con me se non è un cravatto iscrivete al canale e in descrizione il link per seguire su Instagram da un risparmio 07 e tutti e noi ci vediamo in un prossimo video bella ragazzi